Apriamo un'altra bustina di Dragon Ball Super con l'Action Figure e due bustine di Lamingar. Vediamo se cosa esce adesso. Le due bustine. E troviamo di nuovo Vegeta. Apriamo la prima bustina e troviamo Trunks del futuro, Jiren, Gotenks, Gohan e Goku e Vegeku. Apriamo l'altra bustina. Giozzi, Vegeta, Goku, Lord Beerus e Goku Super Saiyan Blue con Jiren. Grazie. Grazie.